Musica Buonasera, ben trovati in diretta dagli studi di Telebari prima di tutte le altre notizie lo sport con il pareggio 1 a 1 del Bari contro il Cosenza al San Nicola sentiamo il commento del nostro responsabile della redazione sportiva Enzo Tamborra La prima parola che viene in mente dopo questo pareggio in casa contro il Cosenza è peccato perché il Bari aveva sbloccato la partita difficile con il colpo di testa di Puccino aveva retto parecchio in 10 contro 11 poi l'episodio del calcio di rigore così come episodi è stato quello dell'espulsione di Lelle insomma ci privano della terza vittoria consecutiva però io credo che la squadra debba ragionare nell'ottica di un ulteriore passo in avanti ecco io francamente questa vittoria l'avrei apprezzata di più che rispetto a quelle con l'Immantova e quella di Frosinone perché queste sono partite complicate e difficili che danno l'unità di misura del percorso di crescita della squadra si è rivisto un grandissimo Maita Falletti sempre più leader all'interno della squadra una difesa quasi irreprensibile tanti buoni segnali forse in attacco dobbiamo un po' crescere perché siamo stati poco pericolosi ma ripeto mi tengo comunque stretto e pareggio con il Cosenza anche se con tanta rabbia addosso e sono curioso di vedere cosa accadrà l'altra domenica quando giocheremo a Cremona un match che poteva essere un big match ma che comunque rimane una gara importante c'è ramarico perché secondo me la squadra avrebbe meritato la vittoria e mi dispiace che arrivi tramite un'ingenuità ma l'ingenuità non sta nel compiere il gesto che è stato fatto ma nel dare la possibilità secondo me al VAR di decidere perché come ho già detto anche in conferenza per chi ha giocato a calcio è vero che dalle televisioni fai fatica a capire la forza o l'entità del gesto però per chi ha giocato a calcio sa che il difensore del Cosenza se la sta ridendo e adesso proseguiamo con i servizi della giornata ufficialmente aperta al pubblico l'87esima edizione della Fiera del Levante riviviamo la cerimonia inaugurale nel racconto di Serena Russo la Fiera del Levante è un'istituzione per Bari, per la Puglia, per il Sud, per l'Italia intera è una manifestazione che ha attraversato la storia nazionale raccontando l'evoluzione del nostro sistema economico e imprenditoriale in questa lunga storia ci sono stati momenti di grande positività altri più difficili però la Fiera è rimasta sempre un punto di riferimento è una delle principali vetrine del dinamismo, dell'intraprendenza della creatività delle nostre imprese e dei loro lavoratori in particolare nel mezzogiorno Videomessaggio per la Premier Giorgia Meloni che diserta la cerimonia inaugurale dell'87esima edizione della Fiera del Levante e invia a Bari in rappresentanza del Governo il Ministro per il Made in Italy Adolfo Urso i discorsi si susseguono uno dopo l'altro fino al taglio del nastro che del via ufficialmente alla campionaria adesso aperta al pubblico primo discorso inaugurale per il Sindaco Vito Leccese che come anticipato nelle scorse ore batte sull'emergenza casa rivolgendo al Governo un appello per le 20.000 persone a rischio solo nel capologo Pugliese di rimanere senza un tetto un discorso appassionato quello del primo cittadino che in chiusura aveva promesso silenzio dice si lascia invece andare sull'ipotesi scioglimento del Consiglio Comunale rimarcando le innumerevoli attività del Comune di Bari contro la criminalità organizzata gli fa ecco il Governatore Michele Emiliano particolarmente critico nei confronti del Governo dopo aver enunciato i successi della Regione Emiliano si concentra sulla questione di sanità sul turismo che va governato e si scatena in chiusura sulla questione autonomia differenziata la Puglia non vuole tornare indietro ed è al fianco di chi in Italia si sta mobilitando contro la legge Calderoli sull'autonomia differenziata siamo stati la prima Regione a impugnarla davanti alla Corte Costituzionale nella convinzione che questa legge renda diseguali i cittadini delle regioni italiane lo spirito che ci muove è tutelare l'unità del nostro Paese nel rispetto dei principi sanciti dei padri costituenti glissa sugli attacchi ricevuti il Ministro Urso che in un discorso fiume elenca i successi del Governo senza però rispondere ai punti toccati da chi lo ha preceduto sul palco della Fiera parla però dell'ex Silva di una situazione risolta in tempi record e anche lui come la Premier Meloni di una Puglia che cresce sul futuro della campionaria si concentrano invece i presidenti di Nuova Fiera e dell'ente Fiera Gaetano Frulli e Simonetta Lorusso l'annuncio è quello della realizzazione di un nuovo padiglione Abbiamo presentato in Regione Puglia un progetto per la costruzione di un nuovo padiglione che ci permetterà di poter essere pronti ad ospitare fiere nazionali ed internazionali le quali necessitano di spazi e di luoghi consoni alle fiere moderne Bari potrebbe diventare ad esempio con la creazione di un moderno centro congressi un player rilevante nella convegnistica nazionale consentendo alla Regione tutta di compiere un ulteriore passo verso il pieno sviluppo di un turismo qualificato E la cerimonia inaugurale della fiera è stata anche l'occasione per lanciare critiche e appelli al governo Una vetrina per le imprese ma anche una cassa di risonanza per le polemiche politiche il registo si ripete anche in questa cerimonia inaugurale della fiera dell'Evante arena delle contese tra amministrazioni locali e governo il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano non si è fatto sfuggire l'occasione di lanciare qualche frecciatina al ministro dei Made in Italy Adolfo Urso Noi abbiamo problemi gravissimi in sanità tutta l'Italia avrebbe bisogno di uno stanziamento sul fondo sanitario nazionale molto più importante perché non riusciamo ad assumere il personale necessario e soprattutto al sud addirittura la tegola dell'autonomia differenziata e sento dire addirittura che i saggi cosiddetti starebbero immaginando che i LEP debbano essere diversi tra nord e sud quindi quando devi tutelare un diritto al sud ci vogliono meno soldi che per tutelare un diritto al nord quindi una specie di gabbia vitale torni più pagati quelli del sindaco Vittorio Cese che però ha lanciato un allarme a nome di tutti i primi cittadini una preoccupazione che non è solo mia ma è comune agli 8000 sindaci italiani che è quella legata ai grandi investimenti che le città stanno facendo con i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza noi siamo molto preoccupati che una volta realizzati gli interventi non avremo i soldi per la gestione perché per noi inaugurare un asilo nido non è soltanto un modo per farsi un selfie mentre si taglia il nastro quando poi quel nastro viene riavvolto perché non ci hanno i soldi per gestire l'asilo nido quindi siamo molto preoccupati il ministro per il made in italy Adolfo Urso nel suo punto stampa subito dopo la cerimonia inaugurale ha difeso il progetto di autonomia differenziata che farà esprimere al meglio ha detto le potenzialità del sud l'autonomia differenziata è un processo che permetterà al mezzogiorno di esprimere le sue potenzialità il ministro Urso dalla fiera del Levante difende le politiche di governo che hanno creato una mobilitazione delle regioni del sud per tentare di fermare quella che è stata ribattezzata della legge la legge spacca Italia sono una grande opportunità unica a riaccesso il motore degli investimenti in tutto il mezzogiorno e è interessante anche per le imprese internazionali che vogliono localizzarsi qui in quella che sta diventando una piattaforma produttiva logistica portuale per tutto il Mediterraneo l'autonomia è quello che da sempre chiedono i territori al nord come al sud in una logica di piena condivisione e coesione nazionale come questo governo ha saputo garantire e garantirà anche in un processo costituzionalmente corretto sarà sicuramente il modo per esprimere al meglio le potenzialità del nostro mezzogiorno a cui noi crediamo talmente tanto da aver indicato in un commissario del sud il commissario italiano che tra l'altro avrà deleghe molto importanti come vice commissario vice presidente esecutivo della commissione credo che anche questo sia il segno di come il governo creda nel mezzogiorno e sino appunto di affidare la rappresentanza italiana a un ministro del sud tra l'altro nato in Puglia che ora sarà il rappresentante dell'Italia nella commissione europea con un ruolo così significativo quale vice presidente esecutivo con deleghe estremamente significative proprio su tematiche che possono avere riscontro nel nostro paese nel nostro mezzogiorno e la fiera è ufficialmente aperta ai visitatori sarà una vetrina per le imprese ma non mancherà anche lo spazio per il divertimento con un ricco cartellone di eventi sentiamo i cancelli dell'87esima edizione della fiera dell'Evante sono ufficialmente aperti già nel primissimo pomeriggio i viali erano affollati dai primi visitatori un'edizione con l'ambizione di essere una fiera nella fiera con padiglioni altamente specializzati come quello dell'arredamento che quest'anno può contare su un numero maggiore di espositori un tour tra le nazioni del mondo e la tappa obbligata è anche un po' nostalgica per gli appassionati della campionaria un vero e proprio concept la galleria delle nazioni che mescola storia tradizione e cultura un'edizione che mette gli espositori al centro sottolineato il presidente della nuova fiera dell'Evante Gaetano Frulli proprio a loro è dedicato il galà dell'Evante al Petruzzelli in programma domenica sera anche questa 87esima edizione ha l'ambizione di fare da cassa di risonanza il sistema delle imprese è un'occasione per tante aziende e tanti visitatori di creare occasioni di lavoro di creare relazioni la fiera dell'Evante è importante perché si torna a parlare di futuro si torna a parlare di governo nazionale si torna a parlare di governo cittadino è un'occasione quella della fiera che dobbiamo conservare e tutelare anche per il futuro immancabili gli appuntamenti istituzionali per tutta la settimana con focus sul sistema dell'internazionalizzazione tema dominante nel quartiere fieristico sarà una settimana di incontri di battiti di mostre in cui parleremo di innovazione di internazionalizzazione di economia di commercio di artigianato ma proveremo anche a dare delle traiettorie nuove alle imprese sarà un momento di confronto per fare il punto di situazione ci saranno buyers americani per quanto riguarda la grande distribuzione quindi per il settore della trasformazione alimentare agroalimentare ma ci saranno anche buyers nel settore della moda giapponesi quindi sarà l'occasione per le nostre imprese per avere contatti con il resto del mondo e Telebari sarà protagonista della fiera dal lunedì e per tutta la settimana la nostra programmazione dalle 13.30 alle 15.30 sarà trasmessa in diretta dallo studio esterno allestito davanti al nuovo padiglione spazio anche allo show con un ricco palinsesto serale tra comicità e musica ogni sera uno spettacolo gratuito per i visitatori imperdibile l'appuntamento organizzato da Telebari mercoledì sera con lo showman barese Renato Ciardo con il suo Cantatour che ospiterà la banda di Rotta su Cuba tra le formazioni più funky della musica italiana a chiudere il cartellone domenica prossima il ritmo rock and blues di Edoardo Bennato e adesso ci spostiamo a Palazzo di Città un provvedimento per mettere un freno al caos della Movida in centro a Bari il comune sta prontando una serie di nuove norme per l'asporto e per la sua amministrazione di cibi e bevande fuori dai locali ce ne parla Andrea Dammacco Stop all'asporto tutti i giorni dopo le 23 tranne il weekend quando potrebbe essere prolungato fino alle 2 gli orari sono indicativi ancora da definire ma l'idea per mettere un freno al problema della cosiddetta mala Movida che tanto sta creando disagio ai residenti specialmente del quartiere Umbertino di Bari è quella di limitare gli assembramenti per strada l'indirizzo verso cui sta andando il comune è stato definito in un incontro ieri a Palazzo di Città con i rappresentanti dell'Associazione di Categoria delle Attività Economiche Coffcommercio Confesarcenti e CNA particolare attenzione è stata riservata alle questioni legate alla zona del centro cittadino e come ha spiegato a Tele Bari l'assessore a sviluppo economico Pietro Petruzzelli l'incontro con i referenti di categoria è venuto dopo aver ascoltato le proposte dei residenti stanchi di avere a che fare ogni sera e specialmente nel fine settimana con caos e rumori molesti fino alle prime ore del mattino il diritto al riposo ha spiegato Petruzzelli è un diritto dei cittadini che va tutelato l'idea è quella di garantirlo limitando la presenza di persone per strada il ragionamento che è stato fatto prima con i cittadini e poi in un incontro con l'Associazione di Categoria ha continuato è quello di intervenire sull'asporto perché è quello che determina la presenza di persone per strada ridurre dunque l'orario di asporto ma garantendo la somministrazione all'interno dei locali altra questione a margine è stata anche la proposta giunta sempre da residenti ma condivisa dall'Associazione di Categoria delle nuove attività commerciali un altro punto sul quale si attende una discussione condivisa per dare ulteriore ordine alla movida cittadina chiude per sempre il negozio storico a Celta di Virgiro dopo oltre 50 anni di attività ne abbiamo parlato con il titolare Tonino di 79 anni sentiamo ho sempre avuto un solo vizio il lavoro ma ora dopo oltre 50 anni di attività il 79enne Antonio a Celta è pronto a chiudere per l'ultima volta la saracinesca della storica boutique da donna inviar giro per fare spazio a un negozio monomarca non è facile però come ogni cosa nella vita c'è un inizio e c'è una fine innanzitutto volevo ringraziare tutta la mia vastissima clientela da parte mia e da parte di mia moglie e delle ragazze purtroppo è un vizio che è sempre solo avuto il lavoro è qualche altro vizio sporadico ma il lavoro innanzitutto dell'età di 6 anni fra poco arriva 80 anni penso che bastino poi c'ho da fare nel bambino nell'uomo do una mano a mio figlio a Barletta nelle sale cinematografiche e tutto il resto Tonino hai regalato sogni bellezza ed eleganza la tua attività è legata al periodo più bello e felice della mia vita è solo uno dei tanti messaggi che l'ormai ex titolare di Asselta riceve da quando ne ha annunciato la chiusura definitiva ma da me trovavano rapporto gusto tranquillità si sentivano a casa loro vengono da me e mi dicono adesso dove andiamo o come dico avete ragione però non è facile per nessuno continuare alla mia età non avendo più lo spirito e l'idea di quello che è il futuro ho avuto questo solo per il vantaggio di non tradire la mia clientela che fino ad oggi non l'ho tradita il futuro del commercio barese si sta trasformando da anni stravolgendo sempre più le vie dello shopping cittadino un fenomeno che Antonio detto Tonino ha imparato ad accettare col tempo e che più di tutto lo ha convinto che fosse arrivato il momento di dedicarsi a suo figlio e ai suoi nipoti stanno chiudendo molti ma non come me per età stanno chiudendo molti negozi importanti a Roma a Parma a Trapani perché il mondo sta cambiando per la giornata europea delle fondazioni organizzata anche Bari l'iniziativa intitolata hashtag un'altra partita comunità in campo sport come strumento di inclusione partecipazione e benessere per la dodicesima giornata europea delle fondazioni organizzata da Acri ha preso il via all'iniziativa un'altra partita comunità in campo con oltre 130 eventi tra spettacoli incontri e appuntamenti che mettono al centro lo sport per tutti progetti che favoriscono l'attività sportiva di giovani anziani persone con disabilità migranti e detenuti in piazza del Ferrarese la giornata ha preso il via con l'esibizione della SD Unione Italiana Cechi Bari che coordinati dal CT della Nazionale Italiana Michele Pugliese hanno intrattenuto i passanti con una partita di calcio a 5 per non vedenti nel pomeriggio appuntamento con il calcio in carrozzina elettrica con la squadra oltre sport di Trani e in serata animazione e musica con l'associazione Le Zanzare e il loro disabile Jai Leonardo Baccarella DJ famoso in Puglia che suona musica nonostante la sua tetraparesi a seguire il coro Manos Blanc accompagnato dai musicisti della polizia locale del comune di Bari prendiamo il gancio delle parolimpiadi per far conoscere che poi le chiamerei olimpiadi perché lo sport è uno e comune a tutti per far conoscere a tutti questo tipo di sport che sono degli sport uguali agli altri sport che richiedono delle competenze e comunque ci sono degli atleti dei veri atleti che si allenano che fanno sacrifici che hanno anche forse maggiori costi anche rispetto agli altri Colpo di coda dell'estate si passa dei 32 gradi ai 22 di domani con un crollo termico di almeno 10 gradi questa mattina c'è anche chi ha approfittato per fare l'ultimo bagno della stagione vediamo a Bari l'estate non vuole proprio finire e meno male sono le ultime ore utili per farsi un bagno al mare in tanti ne approfittano riempiendo le spiagge cittadine chi sul bagnasciuga per la tintarella e chi in acqua con temperature fino a 26 gradi è una giornata stupenda il mare pulitissimo viene spesso qui? tutti i giorni vengo qui tutti i giorni perché si sta bene le giornate sono belle e c'è molta gente già a partire dal primo pomeriggio però bisognerà chiudere gli ombrelloni e aprire gli ombrelli in previsione dell'arrivo di una perturbazione atlantica con relativa irruzione di aria fredda un bellissimo sabato mattina per i più con gite fuori porta assicurate però attenzione portare l'ombrello a seguito perché dal primo pomeriggio arriverà questa perturbazione atlantica lungo la fascia costria adriatica le prime piogge già sul Gargano a partire dalle ore 13 in poi e poi in pomeriggio serata tutta la Puglia verrà interessata quindi attualmente 20 da quadranti sciroccali con il tempo che andrà a peggiorare ne accorgeremo in nottata con qualche equazione temporale nella giornata di domenica ci sveglieremo con un abbattimento termico non più 30 gradi di sabato ma temperature tra i 21 e i 24 gradi quindi 10 gradi in meno perché arriva sorridendo possiamo dire il nostro amico maestrale che allontanerà praticamente la perturbazione verso i Balcani ancora qualche acquazzone nel primo mattino e poi dal tardo pomeriggio tanto vento di maestrale che con i suoi mitici tre giorni nasce e pasce e muore ci darà senz'altro due giorni di tempo abbastanza stabile e adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione andiamo a Foggia dove ha preso il via un progetto importante di contrasto alla povertà educativa il servizio circa 500 allievi poco meno di 200 dei quali portatori di disabilità saranno i destinatari del progetto community edulab saranno ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni provenienti da 7 scuole di Foggia una delle quali privata e le altre 6 pubbliche che oltre a frequentare la piscina e la palestra dell'Assori parteciperanno ad attività laboratoriali di informatica realtà immersiva espressione artistica e creativa un approccio multidimensionale di contrasto alla povertà educativa che unisce interventi di carattere didattico educativo e sociosanitario rivolti non solo agli studenti universitari del progetto ma anche alle loro famiglie attraverso uno specifico servizio di counseling si tratta di un progetto contro la povertà educativa e per l'inclusione sociale e i destinatari e la società composta da persone con disabilità e da persone senza disabilità che insieme uniti nella comune obiettivo di relazionale di convivenza e di implementazione sociale frequentano varie attività presso l'Istituto Assori il progetto è finanziato per un importo complessivo di oltre 250.000 euro per le due annualità ed è inserito tra le attività scelte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'inserimento nel piano nazionale di Rinascita e Resilienza è patrocinato da Regione Puglia provincia comune di Foggia ci spostiamo a Taranto l'intelligenza artificiale al servizio della salute vediamo come nel servizio di Angelo Ingenito l'innovazione tecnologica al servizio della salute si manifesta a Taranto dove l'intelligenza artificiale sta migliorando e rendendo più efficienti i processi diagnostici presso la casa di cura Villaverde è stata installata infatti una nuova TAC di ultima generazione che consente di effettuare esami più rapidi e con una riduzione delle radiazioni per i pazienti questo dispositivo integrato nella rete CUP dell'ASL contribuirà significativamente a ridurre le liste di attesa grazie a questo apparecchio l'esecuzione degli esami sarà più veloce e le immagini saranno di alta qualità apportando vantaggi sia ai pazienti che al personale medico e tecnico cosa ci permette di fare questa intelligenza artificiale ci permette di elaborare e di eseguire degli esami ad alta precisione con tempi brevissimi utilizzando addirittura delle dosi di radiazioni molto basse ottenendo anche immagini diagnostiche assolutamente precise inoltre è provvisa anche di un algoritmo che è chiamato Precise Cardiac utilizzato morto da noi quando studiamo il cuore e i grossi vasi le coronarie uno studio che ultimamente stiamo mandando avanti nella nostra struttura e che ci permette di avere delle immagini veramente precise e dettagliate e assolutamente diagnostiche il paziente è quello che ha i benefitti più alti primo perché l'esame dura pochissimo rispetto a prima tenete presente per esempio un total body un attack collo torace addome viene eseguita in circa 10 secondi quindi questo per darvi un'idea della rapidità dell'acquisizione la nostra macchina è in grado di effettuare degli studi coronaro tc di altissimo pregio anche grazie all'intelligenza artificiale e per questa edizione del tg sera è tutto grazie per averci seguito buon proseguimento ben trovati da Nikos a chi ho detto previsioni per domenica quando si sposterà al minimo di bassa pressione verso l'Europa orientale sull'Italia torna un po' di alta pressione eccolo qui il promontorio anticiclonico e di passaggio sugli stati centrali vecchio continente l'Italia poi però con la nuova settimana una vasta zona di bassa pressione sulle isole britanniche punterà di nuovo l'Europa centrale e parte dell'Italia nel dettaglio la mappa delle precipitazioni si sposta via via nella zona di bassa pressione con ovviamente i relativi rovesci in sintesi la mappa in sintesi appunto in generale dell'Italia dove il sole non mancherà da nord a sud a parte qualche locale accennistabile nord Sicilia e appennino versante adriatico temperature però in flessione clima fresco per i venti di maestrale che ancora soffieranno sui nostri mari dettagli maggiori approfondimenti scaricando l'app di Trabi Meteo come a mettere un po' mettere Grazie a tutti